Di nuovo buongiorno Friuli e bentornati in nostra compagnia in diretta per questo nostro approfondimento del mattino che oggi ci porterà a parlare di mele, della produzione, della raccolta di mele in Friuli, Venezia Giulia. Prima abbiamo già visto Monica Nardini nel nostro primo collegamento da Mortegliano attraverso i suoi ospiti andremo a raccontarvi, a mostrarvi come funziona un po' la produzione e la raccolta di mele in regione ma approfondiremo questo argomento anche assieme al nostro ospite Luigi Fabro, buongiorno e benvenuto in studio uno dei tecnici frutticoli dell'ERSA, esperto di mele, allora ci faremo raccontare tutti i segreti sulla produzione delle mele in Friuli Venezia Giulia, tutte le difficoltà anche che ci sono per garantire una produzione anche di qualità. Buongiorno di nuovo anche Maurizio Ferrari che è rimasto con noi in studio, ciao Maurizio. Buongiorno Angela, come al solito cambio staffetta tra di noi per andare a leggere un po' di notizie per quanto riguarda l'argomento di questa mattina ma non solo, anche spazio a tutte le news di cronaca e alle ultime ore. Grazie Maurizio, anche a te dal web come sempre ci darai qualche curiosità, qualche spunto. Oggi parleremo anche della festa della mela di Pantianico perché è in corso proprio in questi giorni questa rassegna storica un po' anche per la nostra regione. Insomma tante cose di cui parlare e io inizierei come si fa sempre in questi casi con una domanda sull'annata della produzione delle mele. Com'è Fabro? Com'è questo raccolto? Come sta andando? Che frutti sta dando? Ma diciamo nonostante le premesse che non sono state molto positive, la produzione è diciamo buona. Abbiamo avuto una gelata primaverile molto importante che ha compromesso la produzione in alcune zone, anche del 100%, parlo ad esempio della zona montana, ma in pianura diciamo che le mele che erano rovinate, cinghiate dal freddo sono state poi diradatte con l'operazione di rado e la produzione è abbastanza buona. Abbiamo avuto un'estate calda con appunto temperature molto elevate e diciamo nell'ultimo periodo è una piovosità abbastanza consistente che ha un po' rallentato le operazioni di raccolta, ma nel complesso abbastanza bene. Abbastanza bene però insomma non è stata facile perché fra il gelo, la seccità e la pioggia che è arrivata un po' tardi Esatto, esatto, ma c'è ogni anno qualcosa. Qualche inghippo. Siamo abituati a queste difficoltà. Le superiamo, le superiamo. Vediamo se il nostro ospite in esterna con Monica Nardini ci conferma quanto c'è dentro il nostro tecnico. A voi Monica. Sì, sono in compagnia proprio di Ivo Unterholzner, proprietario dell'azienda agricola che ci sta ospitando. Prima di fargli fare un commento come richiesto sulla raccolta, anche le difficoltà che ci sono state, prima di tutto vorrei fare i complimenti per il riconoscimento ottenuto alla mostra regionale della Mela. Sì, io sono molto onorato di questo premio, inaspettato un po' anche perché è un premio dove competiamo in tantissime aziende, perciò sono molto molto onorato. Aziende impegnate in questo periodo nella raccolta, alle nostre spalle stiamo vedendo le operazioni già iniziate, già iniziate anche negli scorsi giorni, si parlava delle difficoltà dovute anche al maltempo in questa fase e anche quella precedente. Come sta andando per la sua azienda? Che difficoltà avete avuto eventualmente? Dicevo che siamo ben organizzati con l'antibrina, perciò non abbiamo avuto grandi difficoltà di gelate, per quello è tutto più o meno sotto controllo. È stato un anno abbastanza particolare anche per gli impianti che sono fuori rete, per le gandinate, sono state due gandinate, perciò un po' di secco in un periodo e anche tanta pioggia, diciamo. È un anno tosto, diciamo. Insomma qua si continua a raccogliere, quanta produzione di mele ottenete in media? Allora l'azienda è a 48 ettari, la media è di 25.000 quintali all'anno, dai 20 a 25.000 quintali. Insomma non pochi. La mattina cosa succederà qui? Cosa stiamo vedendo in questo istante? Allora in questo istante questa qui è una macchina con i nastri automatici per agevolare la raccolta. Il personale non deve alzare nessun peso perché le mele vengono automaticamente poste nei bins di plastica che tengono più o meno 350 kg di mele. un'operatrice, una raccogliatrice riesce a raccogliere, dipende un po' da come sono, di quante mele abbiamo sulle piante, della pezzatura anche fino a quattro cassoni al giorno. È molto interessante e curioso. A proposito delle tipologie di mele, delle varietà, quali coltivate? Noi coltiviamo la Golden, abbiamo anche la Gala e la Fuji. Un pochettino c'è, in parte minore c'è un po' di Granny Smith come anche della Jonah Gold. Bene, noi tra poco ci spostiamo a vedere anche un'altra fase della lavorazione di queste mele. A tra poco, a voi la linea in studio. Grazie, grazie a Monica Nardini e anche a Fabio Di Bernardo per queste immagini che possiamo anche tenere in impressione. La fase della raccolta delle mele, poi andiamo ai dati sulla produzione, è molto importante perché è una fase molto delicata, bisogna trattare bene queste mele. Esattamente, è un frutto molto delicato e bisogna raccogliere in un certo modo, altrimenti restano i segni sul frutto e il frutto viene depreciato moltissimo appunto dalle operazioni di raccolta sbagliate. Viene staccato a mano dalla pianta? Viene staccato a mano, si viene fatta una torsione, diciamo, verso l'alto e si stacca dal rametto col picciolo intero. È importante perché così si conserva meglio. Esatto, esatto. Maurizio, c'è qualche dato sull'annata di quest'anno? Sì, siamo sul sito dell'Ansa dove si riepilogano quelle che sono le statistiche un po' della mela in Friuli Venezia Giulia. Cresce la quantità più 5% e si parla di una qualità ottima con l'annata più dolce delle ultime 10. Quindi questo è uno degli aspetti. Questo aumento del 5% nei confronti dello scorso anno si parla dai 280.000 ai 300.000 quintali e di un'ottima qualità con un grado zuccherino che appunto non ha precedenti negli ultimi 10 anni. E si sottolinea appunto anche quello che è stato il via simbolico alla raccolta delle mele proprio nell'azienda Pomis di Chiasiallis di Mortelliano con 30 ettere di meleti. Nonostante le gelate della brinata della primavera, quello che abbiamo detto anche prima, insomma le situazioni particolari, si parla di un livello aromatico molto buono e di un'ottima colorazione alla quale stanno contribuendo in maniera determinante anche gli sbalzi termici degli ultimi giorni, anche 15-16 gradi tra il giorno e la notte. Quante mele si producono in regione? In regione sui 400.000 quintali. 400.000 quintali, per fare un po' un paragone e capire che peso abbiamo, che peso specifico abbiamo. In altre realtà, Trentino Alto Adige... Siamo molto piccoli. Siamo molto piccoli. Siamo molto piccoli, sì. Però cerchiamo di difenderci, ecco. Diceva prima Maurizio di una nata tutto sommato buona per quanto riguarda in particolare il grado zuccherino. Da cosa dipende questo? Ma diciamo che l'escursione termica è uno dei fattori principali per quanto riguarda la trasformazione dell'amido in zucchero. Dipende un po' appunto dalla maturazione fisiologica della pianta e l'amido si trasforma in zucchero e quando arriviamo ai parametri che ci interessano si iniziano le operazioni di raccolta. Ecco, infatti per decidere qual è il momento giusto per intervenire e raccogliere le mele vengono effettuate delle analisi puntuali per capire se c'è la giusta quantità di zucchero... In genere ci sono tre parametri. Uno è la durezza della buccia, della polpa. Ci sono degli strumenti che si chiamano penetrometri che danno appunto la durezza. Poi c'è il rapporto tra amido e zucchero. Ci sono anche dei reagenti per vedere la quantità d'amido e il grado di maturazione. e dei refrattometri per guardare la quantità di zucchero che è presente nella mela. Un po' come avviene con l'uva anche per fare un paragone. Sì, è un frutto molto delicato la mela che se non ha i parametri giusti non si conserva poi nella maniera corretta. Certo, ma la nostra terra, il nostro clima è un clima buono per la coltivazione delle mele? Che caratteristiche deve avere la terra, il clima? Ma diciamo che il fattore proprio essenziale è la struttura del terreno che deve essere un terreno sciolto di medio impasto possibilmente che drena molto bene. Ecco la mela ha paura dei ristagni d'acqua, dell'acqua stagnante, dei terreni pesanti. Diciamo che per tre quarti della nostra regione non è un problema questo. Abbiamo dei terreni abbastanza sciolti. Ecco, il fattore limitante è la disponibilità d'acqua. Ci deve essere quando serve. Per irrigazione va bagnata costantemente, va tenuta bagnata. Quindi anche la mela ha bisogno di tanta acqua. Senz'altro, senz'altro. Maurizio, c'è qualche spunto dal web? Sì, andando a vedere queste statistiche, ad esempio, ad altre regioni non va altrettanto bene perché parliamo dell'Alto Adige, siamo sul sito dell'Alto Adige e in regione si scrive che sarà un raccolto da dimenticare. C'è un forte calo della produzione, poi anche generalizzato in Europa, si evidenzia un meno 21%, ma l'Alto Adige in particolare soffrirà del 7% anche se si scrive meno delle altre regioni italiane. Quindi c'è anche chi non è stato fortunato, la prima riga di questo articolo è abbastanza eloquente, per le mele sarà un'annata da dimenticare. Evidentemente le gelate primaverili, che non hanno coinvolto soltanto la nostra regione, hanno colpito duramente. Si scrive che la media italiana è di meno 23%. Ebbè, una diminuzione abbastanza importante, il gelo ha segnato la produzione delle mele. Vediamo se siamo pronti per ritornare da Monica Nardini, che nel frattempo si è spostata dalla raccolta delle mele, dalle zone in cui si raccolgono le mele, si è spostata all'interno dove inizia un po' la lavorazione delle mele. Vedo che l'inquadratura non è ancora perfetta, allora attendiamo ancora un attimo e riprendiamo in studio il nostro approfondimento. Anzi, adesso Monica mi dice che è pronta, quindi da voi la linea Monica. Ci siamo Angela, sono sempre in compagnia di Ivo Unterholz nella sua azienda agricola. Stavamo un attimino controllando il funzionamento dei macchinari. Adesso proprio chiederemo a lui dove siamo e di che macchinari si tratta. Noi abbiamo visto prima la raccolta in campagna, dopo i cassoni, i bins, arrivano in questo magazzino dove vengono o messi in cella o se no vengono anche subito selezionati. Noi qua abbiamo la macchina che praticamente sul digitale fa 35 foto a mela e si decide dietro la pezzatura dei difetti che possono essere la ruggine in quale canale indirizzare poi questo frutto. Hai sentito bene, 35 foto a mela. Sì, perché devono essere confrontate con i difetti che queste mele possono avere. Di solito la pezzatura è il parametro primo della selezione, poi ci sono anche i difetti, come dicevo, della ruggine, eventualmente delle piccole ondolature dovute alla grandine che dopo vanno in seconda e hanno un altro mercato, un altro prezzo. Insomma, anche dal punto di vista tecnologico le cose sono molto cambiate rispetto a quando per esempio ha iniziato suo padre. Mi parlava anche della tradizione familiare nella coltivazione, nella melicoltura tra questi territori e anche Bolzano. Sì, noi in origine siamo di Merano. Io sono la quarta generazione di frutticoltore. Inizia questa avventura già nel 1910 con dei sesti di impianto molto ampi, si parla di 8x8 metri. Poi mio nonno nel 1930 ha fatto un impianto, diciamo, innovativo perché ha ristretto le misure a 4x4 per poi arrivare nei tempi nostri che si è rivista tutta la frutticoltura sia con le reti antigrandine anche le reti antinsetto, tutte le tecnologie di protezione e via via. Fino ad arrivare oggi che noi puntiamo più sul biologico. Abbiamo sistematicamente iniziato e in un giro di 2-3 anni sarebbe un'azienda totalmente biologica. Una riconversione non da poco a livello tecnologico anche su questo fronte? richiede, insomma, una grande fiducia, un grande investimento. Diciamo che serve molto coraggio e fiducia. C'è bisogno di differenziare il prodotto perché il mercato è diventato più difficile, il consumatore è più attento all'utilizzo della chimica, degli impatti ambientali. Noi pensiamo che questa è la strada giusta. Grazie, considerazioni interessanti che rilanciamo volentieri anche allo studio. A voi, a tra poco. Monica, una curiosità per quanto riguarda l'attività e anche la storia del tuo ospite, dell'azienda che ci sta ospitando oggi che dall'Alto Adige è arrivata in Friuli. Come mai questo spostamento? Vediamo se Monica ci sente. Eccoci. Monica, stavamo dicendo. Sì, vi ho sentito, adesso rilancio, ci chiedevano dallo studio come mai la scelta di spostarsi in Friuli anche a coltivare mele. La scelta è partita da mio padre, lui è passato in questa regione nel 1967 e ha trovato i terreni già coltivati a mele che li ha coltivati un agricoltore, un imprenditore agricolo di Verona di Isola della Scala che si chiama De Marchi. Aveva piantato nel 1965, proprio in questa zona a fianco a noi qua i primi quattro ettari di mele e da lì ci ha creduto in questa zona che tra l'altro fa un prodotto su questi terreni così leggeri e drenanti molto molto saporito, molto interessante. Una zona tenuta d'occhio già da allora da più territori, da altre regioni? Sono venuti parecchi in Friuli ma anche moltissimi friulani poi da sempre coltivano e hanno trovato di nuovo motivazione a coltivare sperando che anche tanti giovani si mettono in gioco su questa frutticoltura. Da questo punto di vista che panoramica ha nel territorio sulle generazioni più giovani? Io trovo spesso dei agricoltori che si avvicinano al mondo della frutticoltura anche se in questi ultimi anni i prezzi erano un po' bassi e lo stimolo di mettersi in gioco su una cultura anche molto impegnativa e molto difficile è tutto rispetto ma c'è più di qualcuno che si mette in gioco. Grazie. Dallo studio se è tutto vi ripasso la linea altrimenti sono pronta a rilanciare altre curiosità. Grazie, grazie Monica. Ci rivediamo tra poco, ci risentiamo tra poco. Abbiamo visto, Fabro, queste mele che venivano selezionate davvero molto attentamente viene fatto un controllo veramente molto molto particolare per la suddivisione nelle diverse fasce di qualità. Diciamo che un primo controllo viene fatto proprio alla raccolta dove appunto sui nastri si mettono le mele buone e lo scarto viene messo su dei cassoni un po' a parte. Ecco, la prima selezione viene fatta in campo poi ci sono appunto queste macchine che dividono, anche calibrano la frutta la dividono per colore tolgono quelle che hanno dei difetti le mettono in parte ed è un'operazione abbastanza complessa ed importante fatta in poco tempo. Eh sì, una selezione davvero rigida quelle che stavamo vedendo in lavorazione erano delle Golden Delicious gialle ma in regione che altre mele si producono? Si producono tutte un po'? Sì, si produce un po' di tutto diciamo che principalmente le varietà sono la Golden ma sono anche la Gala che è una varietà precoce cui abbiamo già finito, già terminata la raccolta c'è la Greni, quella verde Sì, c'è la Fusi ci sono le Stark Delicius, quelle rosse diciamo con le punte sotto e poi ci sono tutta un'altra serie di varietà minori veramente, ce n'è veramente tante l'ultima a raccogliersi è la Pink Lady o la Rosy Glow che sono delle varietà veramente tardive che vengono raccolte in novembre in novembre addirittura quindi si va avanti ancora un bel po' e vengono raccolte più tardi perché sono più resistenti diciamo che hanno delle caratteristiche diverse hanno un ciclo molto lungo e hanno delle caratteristiche particolari di colore, di durezza della polpa è proprio la caratteristica della varietà Adesso abbiamo nominato tipi di mele che insomma si conoscono abbastanza si vedono sui supermercati ma ci sono anche delle mele autoctone nella nostra regione delle mele tipiche del Friuli e queste quali sono? Diciamo che c'è una lunga serie di mele che sono state portate in regione dai nostri antenati e sono state coltivate per decenni nelle varie zone ecco sono 150 varietà ce ne sono tante ce ne sono tantissime diciamo che interessanti dal punto di vista così dalle caratteristiche organolettiche eccetera ce ne sono alcune queste sono state riproposte ai frutticoltori più che altro ai frutticoltori ai piccoli frutticoltori quelli che vendono direttamente che hanno un mercato loro magari hanno anche una struttura agrituristica hanno qualche così sbocco particolare le superfici comunque sono molto molto limitate di queste mele posso ricordare tra queste c'è la di corona che è una varietà molto molto particolare interessante rossa è ticchiolatura resistente cioè resiste alla principale avversità della mela che è appunto il fungo ticchiolatura si chiama Ventura in Equalis poi c'è lo striatto dolce ci sono delle ruggini ci sono 5 varietà interessanti interessanti sulle quali puntare vediamo se riusciamo a tornare da Monica Nardini perché vedo sul monitor di servizio sul nostro monitor di servizio delle immagini molto interessanti che ci stanno arrivando sono delle immagini di un'altra fase della lavorazione vediamo se Monica ci può raccontare qualcosa a voi esattamente siamo in un'altra area durante un'altra operazione molto interessante ci sono curiosità che però chiedo ancora al signore Ivo che è al mio fianco innanzitutto vediamo le mele galleggiare le pere per esempio non galleggiano e perché è importante posizionarle qui e il fatto che galleggino? il fatto che galleggiano è importante perché abbiamo un svuotamento dal bins nel quale ci si trovano circa 350 kg senza ammaccarle perché l'acqua praticamente le solleva lentamente e la mela non si ammacca questo è il motivo quanto siamo diventati anche troppo intolleranti rispetto alle ammaccature i piccoli difetti noi insomma apirenti noi consumatori la mela deve essere perfetta questo è sicuro alle sue spalle poi il procedimento continua c'è la fase di pulitura vera e propria giusto? c'è la lavatrice che sono delle spazzole con dell'acqua pulita che praticamente toglie le impurità dopodiché sono i nasti che la portano che la portano sul diciamo il vero cervello della macchina dove sono sono le fotocamere che fanno queste 35 foto a mela per vedere la pezzatura i difetti dopodiché ci sarebbe anche una pesa perché certi mercati come le mense vogliono avere le mele non dietro la pezzatura ma dietro i grammi sono dei mercati che vogliono quelli delle mense che vogliono la mela di 140-150 grammi e viene fatta proprio la pesatura quindi ogni mela è un piccolo gioiellino diciamo così ogni aspetto è curato al massimo dettaglio diciamo che il mercato è molto molto complesso non c'è come negli anni lontani ormai che c'era solo la cassa che si ragionava che un impianto faceva 5000 casse adesso queste casse sono diventate i bins i bins devono passare queste macchine e dopo si dividono le partite di mele in tantissime posizioni possono arrivare anche fino a 28 posizioni dietro il colore le pezzature difetti minimi per la seconda o difetti grossi per l'industria grazie Ivo noi ci spostiamo dopo ulteriormente in un'altra area a voi lo studio anche perché si avvicina alla pubblicità grazie Monica hai sott'occhio bene i tempi io non sapevo che la mela galleggiava e la pera invece affondava Maurizio tu ce l'hai fatto caso confermo confermo devo ammettere anche io questa ignoranza adesso metterò tutta la frutta nell'acqua per vedere chi galleggia e chi no torniamo al mondo del web perché ad esempio un colosso della mela come Melinda prima parlavamo di produzione cerca mele all'estero perché la produzione sarà di meno di 10.000 vagoni contro i 40-42.000 degli anni scorsi queste sono cifre che fanno sicuramente riflettere servono almeno 2.000 vagoni di mele il presidente ha spiegato che sono necessari per servire il mercato dare lavori ai dipendenti e non far perdere soldi ai frutticoltori ovviamente una catena che coinvolge davvero tantissimi aspetti e a proposito di tantissimi aspetti la mela fa discutere non solo per quello che è l'aspetto prettamente di voglia di mangiarsela perché non neghiamo l'ho detto anche prima nel precedente collegamento di Monica ci è venuta sicuramente fame però c'è sempre questo famoso detto che la mela toglie il medico di torno non abbiamo nulla ovviamente contro il comparto medico lo dico anche per il nostro staff medico dell'Udinese che è sempre vigile anche sulla squadra però scorrendo questo articolo che abbiamo trovato in rete sono state fatte delle stime il rischio di tumore nei consumatori di mele è diminuito del 21% per il cancro del cavo orale 25% per quello esofageo 20% per quello del colon reto insomma ci sono delle statistiche che riguardano un po' tutte queste malattie che fanno capire anche secondo le stime dei ricercatori dal 20 al 40% dei tumori del tratto digerente in Italia associabili al basso consumo di frutta e verdura c'è un segreto delle mele che è quello della quantità di polifenoli in loro contenuti quindi questo uno degli aspetti anche più importanti dal punto di vista medico ma non solo perché nel prossimo articolo ti faccio vedere anche un altro uso quello dell'aceto di mela che secondo alcuni fa bella c'è il suggerimento su come usarlo su pelle e capelli ma degli articoli di questo tipo prima ho fatto un giro in rete ce ne sono veramente una quantità industriale per rimanere in tema e dunque la mela viene sottolineata come uno dei principali strumenti non solo per ovviamente riempirsi la pancia sicuramente luci dai capelli mi par di ricordare Fabro non so se lei ha qualche ricordo in merito ma mi pare che il laceto di mele abbia questo effetto adesso ci fermiamo per un attimo di pubblicità poi saremo di nuovo in diretta assieme per proseguire ancora una mezz'oretta del nostro approfondimento di oggi parlando di mele della festa delle mele di Pantianicco anche tra poco rimanete con noi di nuovo buongiorno Friuli e bentornati in nostra compagnia oggi parliamo di mele nel nostro approfondimento è all'orizzonte la festa della mela di Pantianicco anzi è già iniziata al prossimo fine settimana avrà il suo momento clou tra poco parleremo anche di questo ma più in generale parliamo della produzione delle mele in Friuli Venezia Giulia assieme a Luigi Fabro che è uno dei tecnici frutticoli dell'ERSA Maurizio Ferrari c'è Maurizio Monica Nardini in collegamento esterno in questa nostra diretta oggi non abbiamo fatto ancora un passaggio veloce sugli aggiornamenti di cronaca allora Maurizio verrei da te per un giro veloce a vedere quello che sta accadendo in Italia e nel mondo allora facciamo un rapido giro partendo dalle notizie che arrivano sul fronte internazionale già dalla serata di ieri si era capito che il fronte caldissimo tra Corea e Stati Uniti avrebbe raggiunto ancora un punto di escalation superiore tant'è che è intervenuta anche la Cina che dice retorica pericolosa le cose si calmino sta diventando troppo pericolosa ciò non è dell'interesse di nessuno certamente speriamo che usa Corea del Nord vedano che non c'è altra via oltre i negoziati per risolvere la questione nucleare l'alternativa al disastro ieri per chi non avesse seguito questa notizia insomma c'è la Corea si è sentita sostanzialmente sotto dichiarazione di guerra gli Stati Uniti hanno smentito però c'è veramente un clima molto molto rovente Trump che nel frattempo deve anche far fronte a quelli che sono i disastri naturali sottolinea come Porto Rico sia stata quasi distrutta dall'urogano Maria le prese con seri problemi e lo ha confermato anche il presidente americano che ha detto su Twitter che la vecchia rete elettrica già in pessime condizioni è stata devastata e la maggior parte dell'isola è stata distrutta il governatore Rossello ha lanciato un appello spiegando che servono aiuti dobbiamo evitare la crisi umanitaria e a proposito di situazioni dedicate a Vanuatu 6.000 evacuati per timore di un vulcano Manaro dunque almeno 6.000 persone costrette a lasciare le case nell'isola del Pacifico Meridionale c'è questo vulcano che sta destando molta preoccupazione torniamo in Italia un paio di notizie non particolarmente piacevoli infiltrazioni dell'Andrangheta in Lombardia 24 arresti tra le accuse associazioni di tipo mafioso estorsione lesioni danneggiamento traffico di stupefacenti corruzione e abuso d'ufficio in manette anche il sindaco di Seregno sempre in Italia residenti all'estero prendevano assegno sociale 370 denunciati e dunque ovviamente questo assegno non gli aspettava perché aspettano soltanto a chi risiede in Italia il nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi ha scoperto e denunciato queste 370 persone che in totale hanno indebitamente percepito oltre 10 milioni di euro questa notizia in primo piano su tanti siti di informazione in questo momento torniamo nella nostra regione torniamo a Pantianicco idealmente dove è in corso come dicevamo la 48esima mostra regionale della mela e allora la linea torna subito a Monica Nardini che vedo in compagnia del presidente della Proloco proprio per raccontarci come sta andando e anche quello che accadrà nei prossimi giorni e nell'ambito di questa mostra della mela a voi esattamente sono in compagnia di Lucio Cisilino presidente della Proloco Pantianicco dunque gli rivolgo subito la domanda come sta andando questa 48esima edizione della mostra regionale è iniziata lo scorso weekend continuerà da mercoledì fino a domenica giusto? esatto sì diciamo che l'inizio non è stato dei migliori perché domenica abbiamo avuto il tempo che non ci ha non ci ha favorito sicuramente comunque in data l'inizio è stato buono sono tante le sollecitazioni che proponete nella valorizzazione appunto della produzione locale di mele tanti dolci che possibili degustare ma tante altre le curiosità che proporrete sì a me piace considerare la mostra regionale della mela come un contenitore dove ci sono diverse manifestazioni per tutti i gusti andiamo dal culturale allo spettacolo ai concorsi ci sono diversi concorsi al godereccio naturalmente arricchito comunque dei famosi nostri dolci di Pantianico la famosa pomelle assieme ad altre tante specialità tra le battezze di cui anch'io sono golosa devo dire parlavamo dunque di questa tradizione della coltivazione anche delle mele sul territorio lei che panoramica ha degli ultimi sviluppi e anche delle generazioni più giovani ma penso che ci sia una nuova generazione che sta credendo in questo prodotto ci sono stati degli anni molto difficili soprattutto negli ultimi 4-5 anni in cui il prezzo delle mele non era remunerativo e diversi frutticoltori hanno convertito il fruttetto in vigneto perché con l'avvento del prosecco sicuramente i redditi erano molto diversi io spero che questo trend e questo inserimento dei giovani continui e si ritorni magari ai tempi migliori delle mele dove in Friuli si coltivavano circa 1200 ettari di mele per cui speriamo bene ci sono delle domande qualcuno che si viene informare anche da voi durante questa manifestazione tra i più giovani no diciamo che da noi vengono più che altro per le curiosità siccome abbiamo anche una mostra pomologica delle varietà autoctone di una volta c'è tanta gente che viene con 4 mele nella bocca e dice ecco questo qui assomigliano alle mie dove posso trovare questa pianta e allora diciamo che anche è bello è bello siete anche appassionati rilanciamo intanto anche qualcuno dei prossimi appuntamenti no sì stasera abbiamo un mercoledì sera incomincia con un avvento culturale dopodiché giovedì avremo la cena dell'apicultore con la premiazione del concorso regionale miele di Pantianico e venerdì abbiamo l'elezione di Miss Mela e Mr. Melo la melia fa bene alla salute dunque anche alla bellezza sì diciamo che Miss Mela a Pantianico porta fortuna perché diverse vincitrici del concorso Miss Mela sono poi hanno vinto Miss Padania sono andate a Miss Italia hanno partecipato sono arrivati in finale al concorso Miss Alpeabria quindi porta bene 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 allora vedremo anche chi sarà la prossima Miss Mela noi siamo pronti a spostarci anche in un'altra area tra poco a voi grazie grazie a Monica ricordiamo tra i tanti appuntamenti previsti appunto nell'ambito della festa anche la 29esima marcia tra i meli che in programma domenica primo ottobre una una camminata di 10 chilometri nelle campagne appunto tra i meli sicuramente molto molto bella anche questa io ritornerei un attimo sulla produzione delle mele nella nostra regione sui pericoli sulle minacce sull'attività dell'ersa anche per cercare di contrastare questi pericoli abbiamo parlato tanto abbiamo sentito parlare tanto durante le scorse settimane della cimice asiatica dell'invasione di questo insetto che crea seri problemi anche alle mele com'è la situazione Fabro certamente la situazione è abbastanza critica l'insetto si sta allargando come reale di punto suo si sta incrementando come numeri qui vediamo grazie alla regia appunto alcune immagini della cimice asiatica e anche dei danni che fa appunto sulle sulle mele cosa fa questo fa delle punture succhia succhia la linfa e diciamo che la parte interessata da queste punture subisce dei danni alla polpa interna delle suberificazioni molto simili alla butteratura amara e subisce anche delle deformazioni questo non solo sulle mele ma anche sulle pere su quasi tutta la frutta in particolare pesche e druppacce in generale sono quelle ancora più soggette a danni e in questo caso il frutto non può essere messo in commercio il frutto è depreciato completamente può essere solo così utilizzato per una trasformazione eventualmente come si può rimediare come ci si protegge dalla cimice asiatica lo stiamo lo stiamo verificando con diverse con diverse prove che stiamo facendo stiamo collaborando con università dell'Italia settentrionale stiamo lavorando a livello di tecnici un po' di diverse regioni si stanno facendo delle prove i risultati di quest'anno verranno resi noti in un convegno che verrà tenuto penso verso i primi di novembre verso novembre e diciamo che per ora ci sono diversi sistemi di lotta ma tutti non completamente non efficaci non definitivi diciamo il sistema che ha dato maggiori risultati finora è quello della copertura con reti anti-insetto sopra l'impianto c'è già la rete anti-grandine si coprono le pareti laterali e viene creata come una specie di gabbia dove all'interno l'insetto ha difficoltà ad entrare ecco non è risolutivo perché comunque dei danni ci sono ma comunque molto molto meno consistenti degli impianti aperti poi ci sono anche dei sistemi di lotta chimici ma sono poco efficaci perché l'insetto va su tantissime culture si sposta cioè tu tratti dopo due tre giorni l'insetto appena finito l'effetto dell'insetticida rientra purtroppo non è un metodo che funziona ci sono poi degli insetti antagonisti che comunque sono presenti nei nostri impianti ma sono ancora in numero così esiguo che si vedono raramente dei risultati efficaci ecco dovranno questi insetti appunto essere incrementati e dovranno crescere di numero per vedere appunto dei risultati poi ci sono dei non so dei repelenti penso al caolino che è un'argilla che viene appunto buttata sulle spruzzata sulle piante è un così un repelente limita un po' il diffondersi di questo di questo insetto ecco per ora sistemi si prova stiamo provando e stiamo appunto verificando è un problema diciamo non solo nazionale diciamo anche internazionale e noi abbiamo delle catture che sono veramente alte sono nelle zone dove l'insetto è presente da diverso tempo le catture sono molto molto elevate si catturano anche 300 insetti per settimana su ogni trappola tra l'altro non è solo un problema come si diceva giustamente non è solo un problema nazionale ma internazionale ma a livello nazionale ci sono diverse pieghe che ho trovato anche sui siti c'è l'Emilia Romagna che ha stanziato 10 milioni per prevenire i danni con un bando rivolto alle imprese agricole al fine di un sostegno per dotare i frutteti proprio di queste reti anti-insetto e si parla poi anche delle nocciole che ad esempio in Piemonte sono state danneggiate quindi ci sono veramente tantissimi aspetti della frutta che sono stati toccati da questa cimice poi vabbè questo è quello che ho trovato su scala italiana ma a livello internazionale questo insetto sta davvero facendo un sacco di danni ecco anche in regione diciamo la regione ha stanziato dei fondi per dotare appunto gli impianti di reti di reti anti-insetto l'ERSA invece cosa sta facendo come si sta muovendo anche in collaborazione in rete con i produttori così spieghiamo bene anche il ruolo diciamo che noi diamo un'assistenza per quanto riguarda la lotta guidata questa è la nostra attività principale in pratica noi monitoriamo un gruppo di aziende una ventina di aziende divise su tutto il territorio regionale in base appunto alla zona si va dalla zona montana alla bassa pianura e queste aziende vengono monitorate settimanalmente si vedono quali sono le problematiche di ogni azienda si fanno le catture dei vari insetti si vede il diffondersi di funghi patologie particolari e si avvisano settimanalmente i frutticoltori di quali sono le problematiche presenti e quali rimedi che si possono usare quindi c'è un controllo della situazione e anche la fornitura di un consiglio diciamo così su come intervenire su cosa fare questo è un servizio molto apprezzato anche dai frutticoltori tutte le notizie si trovano sul nostro sito che è www.ersafvg.it e questo vale per le mele ma vale anche per tutte le altre fruttiferi e anche culture erbacee vite e altro vediamo se siamo pronti per ritornare da Monica Nardini che nel frattempo si è spostata dal campo di mele allo stabilimento dove c'è una prima lavorazione al punto vendita Monica a voi la linea perché c'è la marcia tra i miei sì esattamente siamo nel punto vendita dell'azienda agricola Hunter Holzner sono sempre in compagnia di Lucio Cisilino presidente del proloco di Pantianicco siamo circondati anche qui da mele volevo ancora terminare con alcuni dei prossimi appuntamenti che ci sono da rilanciare legati alla 48esima mostra regionale sì sabato apriamo la premiazione del concorso dolci a base di mele e miele e domenica abbiamo la marcia tra i miei che è una marcia non competitiva diciamo noi la chiamiamo la magna longa perché durante il percorso ci sono diversi punti di ristoro sempre con i dolci fatti dalle nostre donne c'è un dolce in particolare o un prodotto di cui sono particolarmente golosi sempre chi partecipa a queste manifestazioni sì sicuramente è la nostra è la nostra pomella è il nostro cavallo di battaglia sempre lei sempre lei la famosa pomella di Pantianico sì Lucio abbiamo parlato già anche del premio speciale attribuito all'azienda Unterholzner su quali parametri è stato dato questo premio hanno partecipato 80 aziende se non ero al concorso 78 aziende sì che sono state visitate da una commissione formata da 8 tecnici che nel mese di agosto ha girato per una settimana in tutte queste aziende del Friuli il premio viene viene assegnato all'azienda che in quell'annata cioè in base a dei parametri che sono lo stato fitosanitario delle piante la produttività delle piante il management aziendale e la lotta integrata fino a tre anni fa il premio consisteva in una serigrafia d'autore e una pubblicità su mezza pagina di un giornale regionale mentre da tre anni il premio consiste in un premio simbolico che è quello che potete vedere più regaliamo 200 piante di una varietà di mele di corone che sono una varietà ticchiolatura resistente che era stata selezionata assieme all'austriato dolce a ruggine d'inverno a ruggine di di Enemonzo dall'università che erano delle varietà che potevano avere interesse commerciale perché si conservano bene sono buone a proposito di commercio se non erro voi anche durante la mostra avete proposto varie considerazioni anche su come vengono proposte nelle cassette le mele si c'è anche lì un'arte tra virgolette infatti la mostra della mela consiste anche nella valutazione delle cassette di mele per tipo varietale e lì che devono essere messe in una certa maniera sicuramente chi ha più fantasia riesce a realizzare delle cassette belle in base a dei parametri vengono valutate in base ai parametri varietali ci sono insomma tante curiosità che il consumatore medio necessariamente non conosce fino a fondo io invito anche il signor Ivo a raggiungersi ci fa piacere aver potuto approfondire tutte queste curiosità che ci evidenzano ancora una volta il forte impegno e la passione che bisogna avere per poter appunto portare avanti una tradizione come quella della sua famiglia Sì qua ci troviamo nel punto vendita storico direi dell'azienda un punto vendita che esiste dal 1969 quasi il cinquantesimo Sì è stato rinnovato nel 2000 noi una parte della produzione la commercializziamo direttamente in questo punto vendita come anche abbiamo siamo presenti in vari mercati comunali che sono il martedì a Codroipo poi siamo a Feletto Umberto Portoguaro San Vito al Tagliamento e il sabato ci alterniamo fra Pordenone e San Giorgio di Nogaro molto articolata quindi l'attività anche per il dettaglio ma ci sono delle caratteristiche e delle curiosità che vi vengono poste dal consumatore quali sono anche le varietà più richieste? Allora si nota che la Fuggi piace la Fuggi negli ultimi soprattutto negli ultimi due anni ha aumentato un po' la fetta di mercato anche sul dettaglio la Golden è sempre una mela che si vende alla maggiore c'è molto interesse della mela friulana del produttore che si mette in gioco e vende direttamente il prodotto Bene di questo non possiamo concludere così siamo molto felici io ringrazio Ivo Unterholzer dunque la mela di Pantianico mostra che vede protagonista la Proloco dunque ringrazio anche il presidente Lucio Cisilino per essere stato con noi e che dire insomma da gustare tutte queste mele da approfittare delle iniziative proprio anche proposte dalla Proloco nel corso dei prossimi giorni da qui è tutto siamo sullo stradone sulla statale passato Pozzuolo del Friuli giusto quindi da Pozzuolo del Friuli a questo punto è tutto buona giornata a voi la linea grazie grazie a Monica Nardini a Fabio Di Bernardo che ci sta mostrando appunto queste mele che varietà è quella inquadrata Fabro? c'era una Golden e lì è una Jonah Gold una Jonah Gold è una varietà un po' particolare non è molto non è molto diffusa è una varietà che una volta era molto più presente adesso sta diminuendo come interesse ecco e invece sta aumentando anche l'interesse per le e Gala ci diceva prima è una varietà precoce è la prima vedete anche lì sull'immagine la vedete in alto a sinistra eccola è una mela interessante perché diciamo è la prima ad essere raccolta ha delle caratteristiche molto molto buone ecco è buona da mangiare quindi siamo in chiusura della nostra diretta di oggi Maurizio c'è qualche ultima ora qualcosa da ricordare o passiamo ai saluti ma guarda una curiosità legata a temi incrociati perché si parla tanto della Corea del Nord c'è stato un caso che è stato ripreso questa mattina dalla prima della stampa il diktat di Kim che coinvolge anche gli atleti e c'è un atleta che è nordcoreano che sta mettendo in grandissima mostra in serie B Quang Song Han ha segnato diversi gol e doveva essere ospite alla RAI della domenica sportiva però ha subito il diktat di Kim che ha detto chiaramente agli atleti che non devono parlare sostanzialmente quindi non ha partecipato alla trasmissione della RAI vedo che ce l'hai anche tu in prima pagina hai imposto il silenzio sì ce l'abbiamo qua Maurizio forse qui la risoluzione è forse un po' migliore rispetto a quella del computer sì quantomeno l'atleta si riconosce si riconosce eccolo chi è un po' esperto io confesso non l'avrei riconosciuto oggi per lo sport Maurizio che appuntamenti diamo? sì perché al di là dei 5 gol in 6 gare della serie cadetta di Anne noi rimaniamo ovviamente vicini alle tematiche dell'Udinese già ieri abbiamo un po' cercato di affrontare quello che è un momento non semplice per il bianconere Udinese Tonight quest'oggi torniamo in diretta alle 15 con pomeriggio calcio con l'allenamento ricordiamo squadra che è in ritiro all'hotel per continuare la preparazione per concentrarsi in vista della partita contro la Samp quest'oggi doppia seduta con la prima seduta che sarà proprio in mattinata e la seconda nel pomeriggio e poi alle 19 nella consuetta finestra con il Tg dell'informazione vi daremo tutte le ultime proprio sulla preparazione a questa sfida di sabato a 18 che è così importante anche in virtù della classifica tutte le ultime di sport e di cronaca nel nostro Tg delle 19 io ringrazio Luigi Fabro per essere stato con noi grazie ancora e buon lavoro grazie anche a Maurizio a Francesco Snidero Emanuele Sergi in regia tutti voi che ci avete seguito anche oggi vi do l'appuntamento a domani ci rivediamo alle 7 anche domani per la nostra rassegna stampa e poi il nostro approfondimento buona giornata e ancora buongiorno Friuli grazie a tutti